No 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 no, veramente orribilante, fa schifo, ci ho provato, mamma mia orribile. Non dobbiamo guidare l'auto perché veramente fa schifo al cazzo. fa schifo proprio guarda ma fa schifo non si può guidare un affare così vediamo un po' allora vediamo un po' c'è il puma trabovero qua vediamo un po' sti scemi di merda ma scemi di nuovo voi due del mattino andate a fare in cura voi e il vino coglioni vediamo un po' lì che cazzo c'è? cinema ah un buggy troppo sbaglio vediamo qua cosa c'era qui più? ah no c'era lì stronzi ma non c'è soldi allora se vado al nord di qua ma non c'è un cazzo di qua ah non c'è niente di qua quell'aereo lì è inguidabile proprio fa schifo non si può guidare quando va giù non lo tiri più su e si schialta questo fa schifo è veramente orribile proprio allora vediamo un po' qui c'era qualcuno ah si si ma qui voglio un po' la strada questa strada di merda qua fa schifo non è talmente che fa schifo la strada che non va più c'era il topo che cazzo era? è passato il topo oh oh eh la cacca la strada era ripilante allora adesso purtroppo se non ci abbiamo un sacchi quindi dobbiamo non va neanche più la gomma ah si che va vediamo un po' come l'auto l'ho ridotto un po' malino ma allora vediamo un po' no che cazzo dobbiamo fare qua cos'è per cambiare un po' l'auto ne voglio una tosta questa cambiare l'auto che fa schifo all'abelino non ho vinto cosa c'era la punto sta cosa ah no camion no non possiamo rubare sta merda ah intanto non c'è sono rimorchi e basta quell'auto lì vedi un po' quasi quasi la prendo io prendiamo sì sì perché tanto questa qua non ce la fa più cazzo l'ho vista ah eccola qua ok sì la cambiamo perché sta cosa schifo fa schifo prendiamo una come si deve anche se non sarà un granché ma vediamo un po' ci rimettiamo in carreggiata perché quello di prima faceva troppo schifo cioè faceva schifo era una buona ma auto però è adesso dobbiamo fare i sacchi però perché qui io voglio i sacchi siamo amici di merda forse di c'erano ah non mi rompere i coglioni vediamo un po' se c'era qualche auto come si deve questa qua fa schifo al cazzo ma è andata a fare in cura liquori e la moto no la moto no sta qua fa schifo con l'auto lì ancora per questo qua questo va in giro col quad lì che cazzo è guarda 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 cazzo vuoi andare col quad il coglione ma volevi scendere per ma vai eh e ti passo pure sopra coglione vaffanculo adesso arriva la polizia sicuro mamma mia ragazzi si è sceso lo scemo no questa qua con la carretta del 600 avanti cristo c'era il parrucchiero ma basta qualcosa di diverso qui cazzo c'è no cazzo non l'avevi non l'avevo visto qua ci ho visto la strada che non ce n'era più però minchia cazzarola mi sa che anche quest'auto qui mi dura poco ci rimettiamo un po' in carreggiata e andiamo un po' da qualche altra parte non va più un cazzo manco questa vai è già distrutta è già distrutta guarda che schifo ma dai che auto di merda non va più guarda che schifo ma dai dobbiamo rubare un'altra auto ma per forza sto parlando un buggy qui tu una stia auto di merda vabbè dai la prendiamo perché ormai ci abbiamo abbiamo distrutto aia la polizia non me l'era corto cazzarola dai cazzati blocchi ma guarda che schifo no quest'auto qui fa veramente cacare mamma mia mi sto poco qua non esistono siamo stati blocchi però c'è che schifo quando si blocca bisogna che vedo dai che cazzo di blocchi brutta merda guarda che schifo porca di colà perché si blocca sta scheda aia la polizia eccomi non mi seguono a me porca minchia mi arresto di brutto qua mi sparano proprio non è che mi arresto seguire questo qua non seguire se seguo il ladro e prendo il ladro io devo inseguire quello ma due stelle cosa vuol dire no mi sono sbagliato cazzo ma due stelle 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 volevo prendere aia madonna bellissima bellissima ciao wow ma 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 aia muoviti 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 ciao 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 se rimane così scappa 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 aia 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 aia